Non so, per il momento siamo felici di aver vinto oggi, non è stata semplice, comunque è stata una partita che abbiamo tenuto sempre sotto controllo, siamo partiti bene e poi abbiamo visto che cedevano un po', eravamo un po' stanchi di gambe e allora abbiamo deciso, abbiamo controllato bene la partita, alla fine abbiamo vinto D6 e adesso recuperiamo la cosa più importante, recuperare l'energia e pensare alla partita di domani, poi l'avversario, chiunque venga, io penso che in una semifinale le squadre siano tutte dello stesso livello, quindi testa e gambe, poi speriamo bene. Ma era mai quello che si poteva vincere Giovanni in un certo modo sia in attacco che in ripresa, purtroppo non siamo riusciti a girare come volevamo e ci dispiace poco. E' un finale del fondo di come cominciata cercando di iniziare tutte le partite, diventemente da non pensare, non che incontriamo, quindi l'obiettivo è sempre lo stesso.